Ok bellezze, 2021, il 2021 è il nostro anno per vincere qualcosa a Fortnite, ma noi siamo dei nubi, ma noi non sappiamo editare, noi non abbiamo riflessi, noi non abbiamo mira, noi non sappiamo bene editare, noi non sappiamo buildare, quando ci troviamo in una build fight perdiamo ogni 3x2, no ragazzi, no sarà un anno disastroso di nuovo, no 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 no, calma 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 calma, qui su eSport Itapation più di qualche volta Anzi, direi sempre, vi abbiamo sempre detto che per diventare dei player anche solo leggermente migliori non serve il rancare, ma semplicemente per migliorarsi un pochettino, vincere qualche battle royale in più e non sempre fare creativa, creativa, creativo, oppure accontentarsi di vincere una partita ogni 20, una ogni 20 ragazzi, ma che razza di statistiche avete? Io vi dico, bene, puntiamo quest'anno a vincere almeno 3, 4 ogni 20 partite libere, perfetto, e ve l'ho sempre detto, non serve avere solo mira, non serve avere un'attrezzatura da 200 euro, non serve neanche avere questi riflessi sovrannaturali alla ninja, alla shroud, alla mongra, alla croatomist, chi più ne ha più ne metta, no ragazzi, serve qualcos'altro, Essere bravi richiede anche un po' di ingegno, astuzia e indubbiamente quindi strategia, anche in qualche maniera, quindi un po' di intelligenza Ecco, intelligenza, questo è un altro obiettivo che dobbiamo portare a casa nel 2021, aumentare il nostro quoziente intellettivo sviluppando qualche buona strategia Aspettate, ne ho in mente diverse da darvi, e credetemi sono tutte facilissime, per voi che non sapete editare, per voi che non avete mira, per voi che siete dei nubi Il peggio del sottoscritto, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, perché i trucchi di quest'oggi saranno davvero al bacio, adatti per affrontare praticamente qualsiasi adversario Dei più esperti, ai meno esperti, provare per credere E voglio iniziare subito con il primo incredibile trucco, ed è facilissimo, ultra mega facile anche per chi non sa buildare Il trucco, in sé per sé, viene meglio su un fight indoor, ok? Quindi in una stanza E che cosa succede, ragazzi? Guardate che queste sono cose che succedono ogni giorno nei fight che vedo di tantissimi di voi Nel low rank, nei giocatori quelli che di Fortnite non ne sanno niente, ma vogliono migliorare un pochettino Che cosa succede? Due si incontrano e iniziano a spararsi sul piano E ragazzi, in questo caso il fight potrebbe tranquillamente essere un 50-50 tra la vittoria e la sconfitta Perché dipende molto, se colpite qualche punto critico del vostro avversario, dipende molto dal lutto a vostra disposizione Dipende molto anche da chi spara prima dell'altro Detemperole povere, ragazzi, uno scontro sul piano, semplicemente sparandosi, ok? E uno scontro che non conviene a nessuna delle due parti La cosa giusta da fare sarebbe essenzialmente buildare E devo essere sincero, quando vi trovate fuori, outdoor, quindi su qualche prateria, da qualche altra parte Sulla mappa di Fortnite, sì, quello che dovete fare è piazzare una barriera verticale E una barriera, ragazzi, obliqua per montarci su Semplice, facile, ok? Ma nell'indoor come facciamo? Oh, eccolo qui il trucco In fight indoor, dove il vostro avversario essenzialmente non sa buildare E anche voi, diciamo che non siete né bravi a mirare, né avete grossi riflessi, né sapete buildare tanto bene Allora io vi do un consiglio Mettetegli un cono sotto il culo Ebbene sì, ragazzi, quella piramide, quel cono Potete tranquillamente metterla in due, tre punti Dove appunto il fight si sta consumando E questo che cosa provocherà? Beh, indubbiamente, ragazzi, destabilizzerà leggermente il vostro avversario Che non saprà più che pesci pigliare La mira quindi inizierà a essere un po' più traballina per lui Perché obiettivamente dovrà aggiustarla in maniera molto più accentuata Di quanto non dovrete fare voi E allo stesso tempo, ragazzi, il triangolo, la piramide sotto di lui è vostra Quindi voi potete editarla Quindi voi avete in qualche modo scombussolato la sua strategia Il suo stare fermo per prendersi la mira E quindi siete partiti in vantaggio Basta semplicemente piazzargli un paio di buoni colpi in the face E voilà Magari siete partiti tardi Magari non avete un loot migliore Ma semplicemente con questo trucco, ragazzi Potreste tranquillamente destabilizzare il vostro avversario Appunto per le motivazioni che vi ho elencato Provare per credere Secondo trucco E anche qui, ragazzi, noi ci basiamo solo su trucchi veri Noi ci basiamo solo su trucchi estremamente easy Perché questo è un video fatto sia per chi vuole migliorare Sia per chi ha un po' di tecnica Ma anche per chi di Fortnite essenzialmente non ne macina assolutissimamente nulla E allora, ragazzi, avete mai notato che in Fortnite esistono tre materiali differenti? Sì? No? Non lo so? Sì, ragazzi, esistono tre materiali differenti Esiste il fantastico legno Il fantastico mattone E il fantastico metallo Ma secondo voi Le costruzioni fatte con questi tre differenti tipi di materiali Cambiano in qualche maniera La resistenza O comunque quello che potete fare Oh sì, ragazzi Oh certo Per cui ecco qua il secondo trucco È semplice Quando dovete mettere una barriera verticale davanti a voi Ok? La prima va benissimo che sia in legno Ma non è resistente Dovete poi mettere una barriera magari obliqua in mattoni O magari ancora meglio una copertura sopra di voi in metallo Immaginatevi uno scontro Iniziate a buildare a destra e a sinistra Avete un po' di capacità Ok? Avete buildato intorno a voi E siete chiusi nel vostro piccolo cubicolo Vi state curando Ora, secondo voi Vi lascerà più possibilità Quindi più tempo per curarvi Una protezione fatta solamente in legno O una protezione fatta in metallo Ragazzi, la risposta è semplice E per farsi shield, shieldini, splash, curarsi Ok? Per farsi un medica di grandi ci vogliono 10 secondi Per farci uno shieldone ci vogliono 5 secondi Serve tempo Immaginate quindi che il vostro avversario Abbia una mitraglietta E continui a tartassarvi Cosa state facendo? Riparate continuamente solo quella barriera? Cioè voi continuate a mettere barriere di legno Su barriere di legno Su barriere di legno? Lo sapete vero che è un primo o poi Il materiale a vostra disposizione Finirà No? E allora perché non switchare? Perché nessuno di voi ragazzi Switcha mai il materiale? Sembra una cosa banale Sembra una cosa da niente Ma quando vi trovate magari In una posizione in cui dovete curarvi Buildatevi non con il legno Ma con il metallo Il metallo è il più resistente Il metallo vi permetterà di resistere a più colpi Ok? Poi obiettivamente fare un editing di una porta È abbastanza facile Ma almeno quando avete bisogno di quei 5 secondi Per tirare il respiro Per farvi quello stupido shieldone È giusto buttarsi in un box di mattoni O ancora meglio Metallo ragazzi Stessa cosa per la cupola Stessa cosa per la base Resisterà di più Resisterà alle bombe Resisterà ai lanciarazzi Resisterà più ai colpi Vi darà quindi più tempo Per cui Perché non utilizzare quello che il gioco vi ha detto? Non è una cosa che vi ho detto Buildate a 360 gradi Con quello sopra in 0-4 secondi Non ve l'ho detto Vi ho detto di switchare il materiale E un tasto Ponto A capo Terza cosa ragazzi Che farà davvero un enorme cambiamento E farà anche dire al vostro avversario Minchia Ma questo è uno strateganato È essenzialmente quello di Non fare mosse prevedibili L'abbiamo già detto L'ho già ripetuto In qualsiasi salsa Ma adesso andiamo dritti al punto Se mi muovete In un campo Aperto Dove non c'è assolutissimamente Nulla In maniera Completamente Totalmente Verticale Senza zizzagare Quindi andare a destra e sinistra Senza magari anche un po' Saltellare Senza utilizzare Magari Le bounce O comunque Qualche mezzo di trasporto Che in qualche modo Vi rende Meno facili Da pigliare Allora io dico Porca misera ragazzi Neanche all'asilo nido Fanno questi errori Ok Il concetto fondamentale Per diventare Difficile da colpire E stare sempre in movimento Nulla di più ragazzi Di stare sempre in movimento State aprendo Un box Un baule Clanciate Ok Andate su e giù Semplicemente Con un tasto State curando Il vostro avversario Vi siete dimenticati Di mettere delle barriere A 360 gradi Intorno a voi Perfetto Non c'è nessun problema Ma Quando lo state curando Tenete bene la visuale Sul vostro alleato Ok In modo tale Da non perdere Il Cundown Del Tempo di cura Ma Muovetevi un pochetto Se state fermi Siete Bersagli Semplici E' semplice ragazzi E' lineare E funziona su qualsiasi cosa Funziona In un fight Funziona anche Nel primo esempio Che vi ho detto Ok Se Vecate un avversario Davanti a voi E gli volete sparare Non state fermi Non state fermi Diventate dei bersagli facili Dovete leggermente Muovervi Da prima a destra Poi a sinistra Perché? Perché non siete prevedibili Se andate sempre a sinistra E' chiaro che anche lui Si muoverà sempre a sinistra Quindi farà un po' di prevision No Voi dovete essere Quelli difficili Da prevedere Quindi Vi spostate un po' a sinistra Saltate Andate a destra Cranciate Vi postate un pochettino E tutto questo Ragazzi In maniera Completamente Totalmente random Un movimento random Genera confusione Nel vostro avversario Che dirà Porca miseria Non so più che pesci pigliare Ma questo E' imprendibile Punto Chiuso Almeno su questo Ragazzi Non vi farete più Brincare E soprattutto Avrete qualche possibilità Di destabilizzare Il vostro avversario Punto Numero 4 Ora entriamo in un fight Ok Eccolo là Il nostro avversario Ti ho visto Ok Buildiamo verticalmente E poi mettiamo Una barriera obliqua Secondo voi L'avversario Magari un po' più navigato Ragazzi Si basta Un 20 ore di gioco Studiato bene E indubbiamente Tutti lo sanno Secondo voi L'avversario Mirerà Un po' più sopra Della vostra barriera Verticale Oppure Inizierà a guardare A destra e sinistra No ragazzi Indubbiamente La prima cosa Che un player Fa Indubbiamente Senza ombra di dubbio Quando tu alzi Una barriera Per andare su E vedere Se tu spunti Dalla parte più alta Della tua barriera obliqua Non dite di no Ragazzi Non dite di no C V Metto anche C Ragazzi Perché ci sono anch'io C e V Mettete sempre In C Ma quindi Spuntate Del punto più alto Non fate mai Un'azione Diversificata Che in qualche modo Distabilizzi l'avversario Come nella situazione di prima Ragazzi La prevedibilità E la vostra morte L'imprevedibilità E la vostra vita E fa la differenza Tra la vita E la morte La sconfitta E il perdere Ed essenzialmente Nel fight È la stessa identica cosa Prima l'abbiamo visto Ragazzi In alcune situazioni Diciamo di tranquillità Ma deve essere gestito In qualsiasi aspetto Ok Che vada dalla raccolta Del loot Che vada alla chest Che vada Alla raccolta del maz Che vada Al tirare su un vostro compagno Ma vale ancora di più In un fight In un fight Ragazzi Voi mettete una barriera verticale Una barriera obliqua E molti di voi Salgono sopra Sulla parte più alta Volete il mio parere? Siete dei bersagli Facilissimo Perché Essenzialmente In molti Un colpo Ve lo tireranno Mentre voi Uscite da lì E dovete quindi Aggiustare un pochetto La mira Mentre lui È già lì Vi ha già visto E vi sta già puntando Quindi È meglio spuntare Dall'alto Oppure All'improvviso Sbucare Da destra E da sinistra Vi consiglio Molto di più Da destra Ragazzi Perché Per quanto riguarda La posizione Dello shotgun O del Del fucile Di tutte le armi Di fortnite Ragazzi La posizione Obliqua Dal punto di vista Destro È la cosa migliore Ok Quindi sporge Prima l'arma E poi il corpo Mentre nella parte sinistra Sporge prima il corpo E poi l'arma Ok Quindi Diversificate Le vostre azioni Pensate di colpirlo In alto Voi mettetegli Una barriera Voi mettetegli pure Un'altra palizzata Che va su Lui si aspetterà Che qualcuno Esca da là Ma voi Gli avete fatto una finta E spunterete Da destra All'improvviso Voilà Colpo Fatto Inferto Morto E questo vuol dire Solo una cosa Un'altra Grande Vittoria Altra strategia Semplicissima Ma che dimostra Senza ombra di dubbio Che utilizzate la testa Essenzialmente Quella di O scappare Ok Non è che Scappare in un fight Vi rende dei vigliacchi Dove c'è scritto Che siete i vigliacchi È una strategia Ok Se l'avversario davanti a voi È più forte O vedete che Siete Un 1 vs 2 Perché il vostro compagno È già perito Oppure troppo indietro Che cavolo andate A rompere le scatole Dagli avversari Scappare È una questione Di saggezza Saper dire Quello è un avversario Che io non posso In alcun modo Sconfiggere È questione Di salvezza Nessun grande generale In nessuna guerra Che sia stato Da Napoleone A Giulio Cesare Ragazzi Si è mai Fiondato A capofitto Su una cavolo Di battaglia Senza sapere Se poteva O non vincere O comunque Avete in mente Una strategia E qui ragazzi Essenzialmente Quello che vi voglio dire Voi avete Due avversari Oppure avete Un avversario Che in qualche modo Vi supera in building Costruzione Editing Perfetto Utilizzate una Jumperina Utilizzate una Bouncing Fuori dalle scatole Anche questo ragazzi Dimostra di come La vostra Intelligenza E analisi È davvero Sopra le righe Che vi permetterà In qualche modo Di andare avanti E magari Sopravvivere Un pochino di più Poi magari Nella parte finale Lo incontrerete Lo stesso questo player E vi farà il culo A paiolo Ma almeno Avete raggiunto La top 10 O no Ultimo Ma non ultimo Ragazzi Il consiglio più grande In assoluto Le capacità strategiche Le capacità Di poter gestire Le situazioni Come vi ho elencato Quest'oggi Non è cosa Non è cosa easy Non è una cosa Che adesso Attaccate fortnite E all'improvviso Diventerete dei veri E propri maestri In strategia E riuscirete a utilizzare Questi trucchi Dal secondo uno Tac Avete già imparato No Anche qui ragazzi Lo dico sempre Lo dico Con fermezza Lo dico su ogni cosa Serve Tempo Cosa vuol dire Serve tempo Vuol dire che Dovete fare 10 ore di gioco Spalmate ragazzi In un mese In una settimana In quello che volete In cui Questa tecnica La mettete Sempre In opera Quindi ragazzi In qualche modo Perseverare La perseveranza Ragazzi E' un termine Che ho utilizzato Molto su fortnite Ok Questo cosa vuol dire Che un movimento Sebbene Sebbene Possa sembrarvi Semplice Una strategia Sebbene Possa sembrarvi Semplice Come switchare Il mazzo Il materiale Ragazzi Sono strategie Semplici Mettere una piramide Sotto il culo Del vostro avversario E semplice Come strategia Semplicissima Saperla mettere in pratica E' un altro paio di maniche Essere in qualche modo Decisi Continuare a portare avanti Questa strategia Farla tua Tua come player E' un altro Incredibile Paio di maniche Per cui ragazzi Ecco qua Non mollate mai Siate tenaci Siate In qualche modo Perseveranti Sul vostro obiettivo In un'ora ragazzi Questo trucco Del andare via O cambiare Il materiale In qualche modo Vi destabilizza E' normale E' normale State aggiungendo qualcosa Al vostro gameplay Un gameplay ragazzi Che pian piano Aggiungi molichella Molichella Da prima Da molto semplice Adesso sta diventando Leggermente articolato Ma per padroneggiare Quel leggermente articolato Queste tre tecniche Schifose Che vi ho detto Che poi ragazzi Sono base Ok Ci vuole tempo Ci vuole Dedizione Provate 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 E non mollate mai Sentite che c'è qualcosa Che non va in quella strategia Metteteci Del vostro Metteteci Il vostro essere player Metteteci la vostra strategia Metteteci Il vostro ingegno Ci sono tante strategie Ragazzi Che in questo canale Non vi ho ancora elencato Ci sono tante cose In questo canale Che ancora dobbiamo scoprire Ci sono tante cose Ragazzi Che sicuramente Possiamo mettere Nel nostro Modo di gameplay Alcuni di voi Potrebbero dire Ma che trucchi banali Che dici Alcuni di voi Pensaranno Che fare il pro player Mettere in campo Una strategia Del doppio muro Verticale Mettere un cono Sopra L'avversario E poi editarlo Sia una cosa da niente No ragazzi Si parte dalle cose base Ci vuole tempo Ci vuole Dedizione E costanza Solo così Riuscirete Nel 2021 A portarvi Qualche trucchino Qualche vittoria In più In questo fantastico Battle Royale Io spero che questo Video Semplice Ma estremamente Importante Vi aiuti A migliorarvi Ogni giorno Sempre di più E soprattutto Se volete Migliorarvi Con qualche nuovo trucco Io vi aspetto qui Su Sport Ita Passion Ciao Ciao Ciao